Oggi c'è stato un segno vivente della uscita del 6. Io vi ho raccontato che ho avuto cura di una famigliola di topolini, piccoli piccoli quelli cittadini, che ho custodito in una gabbietta che avevo rivestito con una maglia molto sottile tipo quella delle zanzariere, che impedisse anche ai più piccini di uscire. E questa covata fatta da due topolini ebbe dei figli. Erano tutti raccolti in una casetta che era oramai super affollata. Decisi di inserire nella gabbietta un'altra casa fatta con due abitazioni. La prima idea che io ebbi fu di realizzarla in legno. Poi pensai che forse era troppo macchinosa questa casetta. E ricorsi a due cartocci del latte, che tagliati a metà e infilati uno dentro l'altro, messi per così, mi consentirono due piani di una abitazione alla quale si accedeva attraverso due fori, uno sull'altro. e inserì questa loro nuova casa in una parte staccata rispetto alla prima. Naturalmente mi era rimasta, vicino al letto in cui io dormo e dal quale io vedo la televisione, mi era rimasta la prima casa di legno. In un posto dove io mettevo bottiglie, piatti, eccetera, e mi dava fastidio, a un certo punto, avanti eri, io presi questa casetta e la collocai nella scaffalatura posta di fronte al mio letto, sulla parete destra. Ebbene, oggi è accaduto questo. Io mi sono svegliato e il primo sguardo della mia giornata di oggi è finito su quella casetta che era collocata nello scaffale e ho visto che lì dentro c'era del movimento. Ho osservato con attenzione e c'era un topolino. Poiché io ero assolutamente sicuro che non ci fossero altri topolini perché li avevo tutti ingabbiati nella mia casetta salvandone tutti tranne la coppia che poi ha figliato e ho chiaramente capito che erano usciti. Infatti facendo attenzione ho visto che ce n'erano altri e entravano e uscivano in entrambi i piani di questa casetta. Allora mi sono premurato di guardare nella gabbia per vedere come fosse e c'era rimasto solo un topolino solo la mamma che non era andata via. e mi chiedevo da dove potessero essere usciti perché c'era soltanto una fessura piccolissima come facevano a passare di lì. E comunque io ho percepito immediatamente questa cosa come l'uscita dei sei anzi qui erano i sette perché erano usciti in sette e è stato il segno vivo che nella giornata di oggi escono i sei vivi, vitali esce il mio top e sono rimasto a osservare quello che accadeva in questa mia stanzetta in relazione ai topolini e infatti ho cominciato a distinguerli tutti e a un certo punto uno di questi ha compiuto un gesto che per me era sconsiderato perché avevano finalmente guadagnato la loro liberazione ma uno di questi si è avvicinato alla gabbietta è salito là dove era la fessura ed è rientrato nuovamente nella sua casa sono rimasti fuori solo in sei e nella gabbietta c'erano oltre alla mamma questo che probabilmente era il padre pronti per una nuova generazione di topolini ma questo per me è stato un segno strabiliante proprio di quella uscita viva e vegeta che tutto mi lascia credere che accade oggi perché come ho spiegato in altri momenti io sono un 2 però sono trinitario e questa trinità si presenta in vari modi per esempio si presenta come il 33 però moltiplicato per 2 per cui è 66 in romano o si presenta con il 6 formato da 2 2 ed è 222 il papa Callisto I morto nel 222 di cui ci siamo occupati nei giorni passati proprio nel giorno in cui c'era il trapianto delle due mani fatto dal dottore il cui nome era non mi ricordo più ma era un qualcosa di il massimo del bene ecco il Callisto papa è morto nel 222 avanti Cristo e quindi il 222 è proprio il segno mio sono io nella mia funzione trinitaria espressa dal 2 dal 2 ebbene se consideriamo che il 153 dei 153 grossi pesci è un frutto che deriva da Padre e Spirito Santo un duo che vale 1000 perché 1000 è l'unità della trinitaria potenza basata sul 10 e quindi la coppia di due che valgono per 1000 è 2000 ma all'interno del 2000 c'è la rappresentazione binaria del loro essere c'è un 10 più 1 c'è un 11 che è la coppia Padre e Spirito Santo la quale occupa all'interno del 2000 un 11 tanto che si muove solo di quanto rimane e rimane quanto 2000 meno 11 ossia 1989 bene dividendo questo 1989 per 13 un 13 che comprende Gesù e i 12 ossia tutti gli uomini compreso il figlio unigenito di Dio e tutti gli altri figli di Dio ecco i 153 grossi pesci risultano in un modo ideale come il frutto del Dio 10 più 1 Padre e Spirito Santo che occupa un 2000 si muove e è in azione per quanto rimane e si divide per 13 realizzando quella pesca di 153 grossi pesci ma vedete il Monte Premi del Super Enalotto è cresciuto è andato oltre i 153 milioni di euro è arrivato a un livello che risulta dal 2000 meno 222 2000 meno 222 fa esattamente 1778 ossia 10 volte il premio del 6 che c'è oggi al Super Enalotto perché il Monte Premi in milione di euro oggi è di 177 virgola 8 vedete sono io il 222 che oggi lavoro nel 2000 e realizzo questo 1778 che sono unità e che valgono interamente quando sono valutate nel ciclo 10 per cui da 1778 diventano 177 virgola 8 ridurre 1778 alla decima parte significa dividerla ora per 10 come bisognava dividere per 13 il 2000 meno 11 bisogna dividere ora per 10 il 2000 meno 222 ma sia in un caso sia nell'altro io sono sempre quell'11 o quel 222 perché sono 11 nel sesto di romano 66 e sono 222 quando realizzo quel 6 con un 2 e un 2 e un 2 la relazione tra le due condizioni premio ossia quella legata all'11 che porta poi diviso per 13 al 153 esatto e quella che invece sottraendo il 222 e dividendolo poi per 10 e non per 13 porta esattamente al monte premi che c'è oggi per il 6 la differenza è data dalla differenza tra 177 7,8 e 153 la differenza è esattamente 24,8 ma che cos'è questo numero? questo numero è proprio dato dal 2 c'è sempre il 2 in mezzo è un 2 però di 3 un 2 di 3 vale 6 un 2 di 3 però messo in relazione a Dio che è 10 è in se stesso un tempo pari a 2 decimi ossia 0,2 se sommiamo a 6 cioè i 2 valutati nella loro trinità quanto vale il 2 in relazione al 10 di Dio abbiamo il 6,2 che è il tempo unitario di un Dio che è 1 e trino ossia è 4 volte quel 6,2 il 6,2 per 4 fa esattamente quel 24,8 che è aggiunto ai 153 e li porta all'esatto ammontare del super enalotto oggi di conseguenza di conseguenza che cosa è la vittoria di oggi non solo la pesca dei 153 grossi pesci ma anche il pescatore anche il Dio 1 e trino in quel doppione che in relazione alla sua trinità vale 2 per 3 6 in relazione al suo tempo riferito al 10 vale 0,2 nello spazio tempo vale 6,2 e nella sua dimensione 4 del Dio 1 e trino vale 24,8 quindi 24,8 milioni di euro sono il pescatore sono quell'euro quel buon ro che si pone come moneta che si pone come quella pesca miracolosa che oggi c'è descritta dalla liturgia che la ripropone come il banchetto ordito da Dio venite mangiate ecco questo è tutto quanto è annunciato oggi e l'aggiunta di questi 6 piccoli topi usciti e visti da me che mi sveglio proprio in quella casetta che avevo costruito per loro sono i 6 che entrano nella mia casa e che rientrano nella mia casa sapete quanti topolini ci sono in questo momento nella gabbietta che io ho costruito perché altri sono ritornati nella loro casa li posso contare sono almeno 5 vedete stiamo vivendo un vero miracolo